In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Laudetur Iesus Christus, sempre laudetur. Maria Sede Sapientiae, ora pro nobis. Carissimi fedeli, continuiamo la lettura dell'opera Imitazione di Cristo. Continua il libro primo. Inizia il capo sesto. Degli affetti disordinati. Ogni volta che l'uomo appetisce qualche cosa disordinatamente, subito diventa inquieto dentro di sé. Il superbo e l'avaro non hanno mai requie. Il povero e l'umile di spirito vivono in molta pace. L'uomo che non è ancora perfettamente morto in sé stesso è ben presto tentato e vinto in cose piccole e vili. Chi è malfermo in ispirito ed ancora in qualche modo carnale ed inclinato alle cose sensibili, difficilmente si può strappare appieno dai desideri terreni. Perciò d'ordinario si sente triste quando se ne distoglie e si irrita facilmente se alcuno gli resiste. Se poi avrà conseguito ciò che brama, subito resta oppresso dal rimorso della coscienza, perché seguitò la sua passione, la quale nulla giova alla pace che egli cercava. E con resistere alle passioni che si trova la vera pace del cuore, e non col secondarle. Non va quindi pace nel cuore dell'uomo carnale, non nell'uomo dedito alle cose esteriori, bensì nell'uomo fervido e spirituale. Vano è colui che pone la sua speranza negli uomini o nelle creature. Non vergognarti di servire ad altri per amore di Gesù Cristo, e di sembrare povero in questo mondo. Non arrestarti su te stesso, ma stabilisci in Dio la tua speranza. Fa quello che sta da te, e Dio aiuterà il tuo buon volere. Non confidare nella tua scienza o nell'accortezza di qualunque vivente, ma bensì nella grazia di Dio, che soccorre gli umili ed umilia coloro che presumono di sé. Non gloriarti delle ricchezze, se vi sono, né degli amici, perché potenti, ma poni la tua gloria in Dio, che dà tutte le cose, e sopra tutte le cose, desidera dare se stesso. Non insupervire per la grandezza o per la bellezza del corpo, che una piccola malattia corrompe e deforma. Non compiacerti della tua abilità o del tuo ingegno, onde non dispiacere a Dio, del quale è tutto ciò che puoi naturalmente avere di bene. Non riputarti migliore degli altri, affinché per avventura tu non sia tenuto peggiore in cospetto di Dio, il quale sa ciò che vi è al di là, al di dentro dell'uomo. Non insupervire delle opere buone, perché altri sono i giudizi degli uomini, altri quelli di Dio, al quale sovente dispiace ciò che piace agli uomini. Se avrai qualche cosa di bene, credi che gli altri ne hanno di meglio, onde conservare l'umiltà. Non ti fa nessun male il porti sotto a tutti, ma te ne fa moltissimo anteporti anche ad uno solo. Pace inesauribile e compagna dell'umile, invidia ed irritazione frequente rodono il cuore del superbo. In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Laudetor Iesus Christus, Semper Laudetor.